Io mi chiamo Davide Scalenge e sono qua alla 33esima edizione dell'Oversame Festival in qualità di giurato per la sezione dei documentari. Ho fatto vari documentari nella mia vita, ho passato anche del tempo in Italia, al momento vivo Londra, quindi quando Irene, Dioniso, la direttrice del Festival, mi ha scritto un po' di mesi fa chiedendomi di tornare in Italia e partecipare al Festival era entusiasta, sia perché il documentario, come il film in generale, è una forma di comunicazione che ovviamente mi interessa moltissimo, ma soprattutto perché non voglio mai perdere un'opportunità che si possa presentare per cercare di dare un piccolo contributo a quello che è il mondo del cinema, ma soprattutto a Torino, in questo Festival, a tutto quello che è la causa e il discorso nella sfera pubblica sulla questione LGBTQI. Il tema dell'intersezionalità è assolutamente importante da trattare, mi sembra che in Italia non se ne parli ancora così tanto. Uno dei film che ho visionato per la categoria dei documentari si chiama Shakedown ed è ambientato a Los Angeles, in un quartiere specifico, si tratta di strippers, spogliarelliste, African American, nere e lesbiche. Quindi, se vogliamo, il film racconta di come abbiano cercato di creare una comunità libera da omofobia e razzismo, quindi dove abbiamo queste due forme di discriminazione che si uniscono e che però, in questo tentativo, hanno cercato di debellare. Per quanto riguarda i miei progetti futuri, io lavoro nel campo della televisione e del documentario da molti anni, ho avuto la fortuna di viaggiare grande parti del mondo, soprattutto in via di sviluppo, quindi sto continuando a concentrarmi sui paesi in via di sviluppo, principalmente l'Africa subsahariana e il sud-est asiatico. Sto lavorando per la fondazione di Bill Gates e sto portando avanti una forma di collezione di data, di ricerca, basata sulla comunicazione e sul contenuto mediatico.